Sarà dedicata a Marco Ragnetti la prima edizione della gara ciclistica Rossini-Raffaello prevista domenica 3 luglio. 80 km di sfida a colpi di pedale che uniranno le due città capoluogo di provincia in una competizione ciclistica nazionale della categoria allievi, ovvero dedicata all'età compresa fra i 15 e i 16 anni. La stessa età che aveva il pesarese Marco tragicamente scomparso in un incidente stradale in scooter lo scorso mese di marzo. Marco era un ciclista dell'Alma Juventus Fano, società sportiva che tra i soggetti promotori di un evento che nasce ora con l'ambizione di diventare una classica. Rossini-Raffaello che è stata presentata lunedì in comune alla presenza tra gli altri anche dei commossi genitori di Marco, fianco a fianco al lavoro interforze organizzativo di Fisioradi Medical Center, Cavirginia, Alma Juventus Fano, ciclo ducale e al sostegno dei comuni di Pesero-Urbino. Se uno ha una mentalità vincente, se uno ha una mentalità con una passione forte, se uno guarda avanti, come ha detto Giacomo Rossi, potrebbe diventare un evento internazionale. Come dico sempre, i sogni nella vita servono per farti guardare avanti, per farti realizzare sicuramente e raggiungere degli obiettivi. Una gara, un sogno. Quella voglia di competere e di sognare gareggiando che aveva anche Marco Ragnetti. Avevamo ospitato l'Alma Juventus Fano 15 giorni prima della sua morte presso il centro Fisioradi Medical Center in una serata dove parlavamo di nutrizione, di mentalità e proprio questi ragazzi sognavano questa Pesero-Urbino, Rossini-Raffaello, questa gara in linea sul loro territorio perché loro dicevano che è un sogno per noi avere una gara di questo livello qui da noi e qualcuno di loro aveva detto mi piacerebbe vincere e uno di questi era Marco Ragnetti. La Rossini-Raffaello partirà il 3 luglio alle 15.30 da Piazza del Popolo di Pesero e raggiungerà Urbino passando per Monte Labate, Apsella, Talacchio, Rio Salso, Borgo Massano, Cagallo, Schieti e Fermignano per un ciclismo che valorizzerà anche il territorio a colpi di pedale. Il territorio ci guida, la passione, l'innesco è la miccia quindi è quello che fa partire ma sicuramente quello che può esprimere il territorio è proprio la forza in particolare di poterlo scoprire anche attraverso uno sport come la bicicletta. La bicicletta per quello che mi riguarda è sensazione di libertà più assoluta, è conquista, è la possibilità di vedere, di osservare quello che abbiamo intorno con un andare più lento. In contraddizione se vuoi è una gara ciclistica però questo è l'obiettivo che poi dobbiamo darci anche a livello turistico perché un territorio possa essere scoperto, visitato e vissuto attraverso proprio i pedali.